Una terribile tragedia ha scosso la vita di Brad Knighton, ex portiere della MLS e della sua famiglia. Sua figlia primogenita Olivia, una vivace bambina di 11 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente in barca. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Una giornata di svago e divertimento si è trasformata in un incubo quando l'imbarcazione, con a bordo 12 persone, è stata travolta da un'onda provocata dal passaggio ad alta velocità di un altro motoscafo. Il rovesciamento dell'imbarcazione ha risucchiato nove dei passeggeri nel mare agitato. Otto di loro sono fortunatamente usciti illesi da quell'angosciosa esperienza, ma purtroppo Olivia è stata colpita dalle eliche dell'imbarcazione ribaltata, subendo ferite letali. La tragedia ha avuto luogo vicino al Little River, sulla costa della Carolina del Sud, lasciando la famiglia di Olivia e tante altre persone nella disperazione e nello sconforto. Brad Knighton, profondamente addolorato e sotto shock per la perdita della sua amata figlia, ha condiviso un commovente ricordo di Olivia su Instagram. Ha espresso l'immensità del loro dolore e la incredulità per la perdita improvvisa e tragica della loro splendida e brillante figlia. Olivia era una bambina appassionata di calcio e amava la squadra Revolution con tutto il cuore. La famiglia Knighton sentiva il sostegno della comunità durante la carriera di Brad e ora hanno bisogno di sentirsi avvolti dalla stessa solidarietà e affetto in questo momento di profonda tristezza. La perdita di Olivia è un duro colpo per la famiglia Knighton, una ferita che rimarrà sempre nel loro cuore. La comunità sportiva e le persone vicine si diranno per offrire conforto e supporto in questo difficile percorso di lutto. La vita di Olivia sarà ricordata con amore e affetto, come una giovane anima brillante che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di chiunque l'abbia conosciuta. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!